Ben trovati da TG della Mobilità. Al Circo Massimo dalle 21, terzo dei 6 concerti di Renato Zero, stasera scatteranno le chiusure al traffico su Via dei Cerchi e via del Circo Massimo da Piazzale Lamalfa via di Santa Maria in Cosbedin. Dalle 20 la chiusura sarà completata anche nel senso opposto e dalle 17 saranno deviate le linee di bus. Gli altri concerti sono in programma il 28, il 30 e il primo ottobre, sempre dalle 21. È tutto per questa edizione del TG della Mobilità.